Salve ragazzi, questo è il video di presentazione che ho deciso di rifare, visto che YouTube ha cambiato un po' la grafica dei canali e quindi il primo video era veramente troppo lungo e questo di qua vuole essere un video di presentazione molto semplice, molto leggero. I nostri obiettivi saranno quello di recensire anime, e quindi non manga, di cui potremmo anche parlare, ma principalmente anime sconosciuti. Successivamente ci saranno anche altre rubriche in cui faremo dei vari focus on, in cui ci saranno dei vari cazzeggi nostri che già potete trovare e inoltre si faranno dei video con la descrizione di tanti termini che generalmente un utente può non sapere e quindi cerchiamo di fare uno standard in modo tale da comunicare con più semplicità e con termini anche corretti. Detto questo, io sono Falcus, mi ripresento e sono l'amministratore della pagina Anime Manga Ita che troverete linkata qui sotto. Se volete aiutarci a far crescere il canale e soprattutto anche la pagina, se non vi dispiace potete condividere i nostri video, mettere tanti mi piace, sempre ai video, e invitare anche i vostri amici ad iscriversi al canale. Detto questo, vi ringrazio, ci vediamo nei vari video. Alla prossima! Alla prossima